Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Domenica c'è da superare il caso Lidiatri, ultimo in classifica. Una gara che solo in apparenza potrebbe sembrare facile, ma in realtà l'incontro non va sottovalutato. La squadra di Pomante questo lo sa e cercherà di mettere in campo la stessa concentrazione delle precedenti gare. I biancorossi sono a più 9 sulla Turis Val Pescara e hanno l'opportunità domenica di incrementare il vantaggio sulla seconda e dunque ipotecare seriamente il salto in eccellenza. Il tecnico Pomante da qualche gara può contare sul centrocampista Mattia Milozzi, classe 2004, che non è stato fortunato ad inizio stagione per aver subito un grave infortunio, frattura del Perone alla terza di campionato contro il Mutignano ed essere stato assente per oltre tre mesi. Poi, grazie al lavoro dello staff medico, è riuscito a recuperare. Qualche scampolo di gara ultimamente giocato da Milozzi contro Penne e Lauretum al posto di sputore ascoltiamo le sue dichiarazioni e le sue emozioni. Sappiamo le nostre qualità, è un gruppo molto forte, molto unito, soprattutto sia tra gli over sia tra gli under, ma è molto unito come gruppo e sappiamo le nostre potenzialità. Non dobbiamo mai fermarci fino alla fine del campionato perché, come abbiamo detto, abbiamo un obiettivo, è quello di vincere il campionato e ci stiamo riuscendo. Manca poco, ma dobbiamo vincere tutte le partite che ci sono rimaste a partire dal caso di domenica. Sono un centrocampista che può essere, sono ludutile possiamo dire, e posso essere impiegato sia nel ruolo di mediano sia di centrocampista e mi trovo bene in tutti i ruoli che mi propone il mister. Sono molto contento di stare qua perché il mister da subito ha creduto in me, mi ha fatto stare molto bene con tutti quanti e sono molto contento. Dopo la pausa del giovedì di riposo lavorativo, oggi alla ripresa degli allenamenti al Besto di San Nicolò saranno da valutare le condizioni di Matteo Di Giacomo, mentre il difensore Cristian Cangemi ieri si è sottoposto a controllo radiografico al dito della mano destra e la frattura non si è ancora consolidata. Ci vorranno almeno altri 15 giorni, ma il ragazzo può ugualmente scendere in campo con un tutore al dito. La SSD Città di Teramo rende noto che stamattina è iniziata la prevendita dei biglietti per il match di domenica al Pigliacelli di Montorio alle 15, proprio contro il caso Lidiatri. Intanto il Città di Teramo ha dato la disponibilità ad anticipare a sabato 18 marzo la sfida contro la Turis in programma al campo Zanni di Pescara.